Ronaldinho ancora duro e entra su di lui Johnson e c'è calcio di punizione, calcio di punizione c'è e come è andato subito un po' duro a far sentire i tacchetti Johnson da Ronaldinho e ora questa è una punizione che può essere pericolosa Ronaldinho, c'è anche Pato, Emerson e Sedorf la lontana è Emerson, ora probabilmente Ronaldinho a facciare, guarda con attenzione la porta, eccolo che parte, Ronaldinho, che gol di Ronaldinho mamma mia che gol, che gol che ha fatto Ronaldinho, 2-1 eccezionale, io mi alzerò in piedi per appraudirlo, guarda purtroppo me lo salsa eccezionale ma come l'ha colpita, io stavo per dire, con questa difesa, con questa barriera alta di un meno del 90, come fa a calciare la messa a gol, che gol eccezionale, guarda canciate con il collo pieno, interno collo, gli ha dato manco un poco di giro, pochissimo guarda dove l'ha messa pazzesco, pazzesca punizione di Ronaldinho e siamo 2-1 per il Portsmouth gran gol di Ronaldinho che riapre la partita quando sono 6, più recupero e minuti a disposizione della squadra di Ancelotti di Crouch, Antonini